Ben trovati da TG della mobilità, l'agenda del trasporto pubblico nella seconda edizione del mattino, oggi via dei fori imperiali e isola pedonale, sono deviate 5 linee di bus e deviazione festiva in zona porta portese per le linee di bus 170, 719 e 781 e parioli anche oggi via Cimarose, chiusa al traffico tra Viale, Liege e Piazza Verdi, deviate le linee 53 e 360, infine oggi il servizio della ferrovia Romalido è attivo su tutta la linea da inizio a fine servizio, la metro A viaggia su bus dalle ore 21.